Vanno a portare una caratta collocata, quindi diciamo che lì è molto diverso, in America è così come lei dice, in Occidente c'è anche da noi, ci sono una marea di cose che se uno non me le dice, non ce le dice, uno non le sa, uno va a un colloquio di lavoro con la cravatta rossa, beh cambia, oppure quando va a salutare la persona prima del colloquio, cioè se io la saluto così è un po', ma se io la saluto così, senza fare capire molti, questo è un altro discorso, prima di tutto così, ma di caccia, tocco un attimo così. Provate se dovete fare qualche incontro importante che è diverso, non è che qualcuno, i genitori ci insegnano la cravatta rossa o salutare con l'altra mano, però è questo in Cile.